Buongiorno, ho appena terminato la consegna degli ambrogini. Ero di fronte ai benemeriti, purtroppo senza i loro familiari e amici, e mentre li consegnavo mi chiedevo perché Sant'Ambrogio è così importante per la nostra città. Una domanda che quest'anno assume un significato ancor più profondo. Ambrogio non è solo il santo protettore di Milano, ma è anche uno dei fondatori della sua cultura e della sua identità. È stato un uomo delle istituzioni laiche e religiose, che ha saputo essere critico verso chi usava il potere in spregio della giustizia, che ha saputo essere estremamente deciso nel difendere i diritti dei più poveri e indifesi. E in questa modernità di Ambrogio trovo tanto della nostra Milano che giusto pochi giorni fa ha meritato l'elogio pubblico di Ursula von der Leyen. Milano è un gran Milano, ha detto la Presidente della Commissione europea, e non si riferiva ai primati della nostra città, bensì alle sue caratteristiche di solidarietà e di resistenza in questo terribile momento storico. Sant'Ambrogio ci illumina da quando, era il 7 dicembre dell'anno 374, avvenne la sua ordinazione come Vescovo di Milano. Chi, come nel mio caso, amministra la vita politica e pubblica, ha la possibilità di creare comunione, così come può alimentare divisioni. Ambrogio scelse la via dell'unione, del superamento dei contrasti e penso che il suo insegnamento sia quanto mai attuale. In questi difficili mesi ho avuto modo di riflettere su cosa vuol dire amministrare politicamente la comunità milanese. Una riflessione che si intrecciava con la consapevolezza di saper di dover prendere una decisione relativamente alla mia possibile ricandidatura. In più riprese ho sottolineato che volevo essere totalmente sicuro di avere in me le energie fisiche e mentali indispensabili per impegnarmi per un altro quinquennio. Ora sento che posso farlo, anzi sento che voglio farlo. È per questo che alla fine di questa lunga riflessione ho deciso di ricandidarmi alla carica di sindaco di Milano. Sono fiero di aver potuto guidare Milano in un periodo così particolare, glorioso, estremamente glorioso per i primi quattro anni e difficilissimo nell'ultimo. E dando per scontato che non tutti saranno d'accordo, sono fiero di come l'ho fatto. Ci sono le opinioni e ci sono i fatti. Un fatto è che Milano ha vissuto una fase di straordinaria crescita e si è imposta l'attenzione del mondo per la sua attrattività. Un fatto è che questo sviluppo si è coniugato con un poderoso intervento sul welfare e per noi la crescita è sempre stata associata alla solidarietà. Un fatto è che la città si sta trasformando dal punto di vista urbanistico, ambientale, della mobilità nella direzione del cambiamento intrapreso dalle grandi città del mondo, ponendo attenzione ai singoli quartieri e in particolare a quelli periferici, senza promesse mirabolanti ma con un impegno al miglioramento che non è mai venuto a mancare. Un fatto è che per la prima volta nella sua storia Milano ospiterà le Olimpiadi e così via, sempre nel solco di apertura e internazionalità. Poi è arrivato il Covid, che ha messo in discussione molto, non tutto ma molto. Non tutto perché i valori fondanti di questa meravigliosa città, dalla cultura universitaria alla creatività, dall'imprenditoria all'impegno civico della cittadinanza, non spariranno e anzi costituiranno la miscela per ripartire. Mi candido a ottenere la vostra fiducia per poter guidare una nuova trasformazione di Milano. Come potete capire dalle mie parole, non mi candido quindi per completare il lavoro, ma per avviare una nuova fase che sarà difficile, faticosa, ma che sono convinto riporterà Milano ad essere una città di ispirazione per il nostro paese, per l'Europa, per il mondo. Sono pronto a voi decidere, essendo io convinto che se non sceglierete me, certamente avrete la possibilità di scegliere altri candidati capaci, perché così è sempre stato a Milano. Nel frattempo mi impegnerò al massimo fino all'ultimo giorno del mio mandato. Tanti dicono di amare questa città. Io l'ho dimostrato dedicando una parte significativa della mia vita al bene dei milanesi. Sono più di dieci anni che antepongo tutto ciò alla mia vita privata e anche questo è un fatto. Buon Sant'Ambrogio a tutti voi.